Operazione Città Sicure della Polizia contro i furti nel mese di agosto. Nel periodo estivo si acquisce infatti il fenomeno dei furti in appartamento, specie nelle grandi città che si spopolano, da cui la necessità di intensificare i servizi di prevenzione e repressione. Per contrastare in particolare i furti nell'abitazione, la Polizia ha organizzato, nella settimana che ha preceduto Ferragosto, l'operazione Città Sicure, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio e della Direzione Centrale Anticrimine. L'intervento si è sviluppato in tre giornate consecutive, da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto in 13 città di tutto il territorio nazionale, da nord a sud, Torino, Padova, Brescia, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania e Palermo. L'operazione ha visto il concorso delle squadre mobili e delle volanti e delle 13 questure interessate, il supporto degli equipaggi, dei reparti prevenzione crimine e della Polizia Scientifica per la rilevazione di impronte digitali e biologiche. Complessivamente sono stati impiegati 3.658 poliziotti. Durante la tre giorni sono state messe in piedi 1.294 posti di controllo, dove sono state esaminate 12.787 persone, 50 delle quali sono state arrestate e 138 denunciate.